ADN Kronos massacrare la gente è diventato uno sport nazionale se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai, se tutta questa indignazione fosse proiettata sui veri problemi, allora forse cambieremo il mondo ma non lo usiamo per il grande fratello. In un post pubblicato su Facebook e Instagram una Belen indignata torna a difendere la sorella Cecilia nel mirino per la sua storia con Ignazio Moser all'interno della casa del grande fratello Vip. Per giudicare persone, per odiare gente che non ha fatto nulla di male, gente che si mette dietro una tastiera a modificare video per massacrare la reputazione di altri, galline che in televisione urlano manco li avessero rapito i propri figli per prendere due applausi da un pubblico invitato ad applaudire, scrive ancora la showgirl argentina. Solo una parola mi viene, pena, certe persone mi fanno pena, ma alla fine ognuno sta dove deve stare, ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere, e con questo buonanotte a tutti i PS, guardate le Instagram Stories, capirete meglio. Belen, conclude rimandando a delle immagini che scagionerebbero la sorella. Sulle Instagram Stories, la Rodriguez ha mostrato le immagini trovate dalla Kaunet Chiocciola e Osto con Belen che scagionerebbero del tutto la sorellina facendo chiarezza su tutte le vicende schifose che ho sentito durante la settimana, in particolare su quanto accaduto nell'armadio. Come il maglione di Cecilia sia sempre stato nero e come i pantaloni del ciclista abbiano la stessa identica piega in entrambi i video quello girato sul web e quello mostrato da Hillary Blasi, cioè quello vero. Addirittura sarebbe stato aggiunto l'audio nel filmato incriminato. In pratica quella scena nell'armadio, che tanta indignazione ha sollevato tra gli spettatori, sarebbe stata artefatta. Qualcuno ha addirittura pensato che la scena dell'armadio fosse stata fatta girare di nuovo ai due amanti per evitargli di essere espulsi dalla trasmissione. Ci si chiede solo se questo accanimento nei confronti di Cecilia non dipenda dal fatto che secondo diversi spettatori il grande fratello abbia messo troppo in risalto e favorito i Rodriguez perché fratelli di Belen.